quella è ancora più fredda Beppe a tre stelle la fai la gara te? giochi? ti hai insegnato? si chi è che non hai insegnato il tre stelle? hai detto che te non vieni si si no adesso mi hanno chiesto per fare 32 coppie siccome mi fanno giocare senza maschera allora chi è che potrebbe giochiare? chi è che potrebbe giochiare? chi è che non hai insegnato? mi ha chiesto se mi segno il tre stelle per fare 32 coppie ok chi è che potrebbe giocare? di questa no ma il tre stelle non gioca? no però potrebbe giocare con me a lei lo conosce è per fare 32 eh no no ho capito per fare 32 eh no no ho capito per fare 32 eh no no ho capito è aperto dai ormai il rischio non c'è più dai l'ha detto anche oggi Zangrillo allora lo scetto ormai ormai c'è ecco adesso ce ne sono due sicuri due rossi questi e questi dirite rossi e due lezza rossi c'è stai gli altri gli altri la le i i Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non.